Il Museo archeologico nazionale di Ignazia sorge all'esterno delle mura di cinta dell'antica città di Ignazia, oggi sito archeologico, nell'area della necropoli messapica presso Fasano. Dal 1912 numerosi sono i reperti riemersi nel corso degli scavi della messapica Ignazia della fine del 500 a.C. e della romana Ignazia del 244 a.C. Una buona selezione di oggetti datata fra l'età del bronzo e l'epoca paleocristiana costituisce quindi questo museo realizzato direttamente nell'area archeologica. Costituito da 11 luminosi padiglioni articolati attorno a due pati accoglie tre diverse esposizioni permanenti. La prima con documenti dell'età del bronzo sugli insediamenti sviluppatisi nell'età del bronzo lungo il litorale adriatico della Puglia, molti dei quali ebbero contatti commerciali con il mondo greco. La seconda è dedicata a Ignazia e alla sua storia. Infine la terza è dedicata all'archeologia globale ad Ignazia realizzata in collaborazione con l'Università di Bari e sottolinea il rapporto tra l'archeologia ed altre discipline scientifiche.